Vigilia di big match per la Sidiga Savellino, che domani alle 20.30 ospiterà il banco di Sardegna Sassari nell'anticipo dell'ottava giornata di ritorno in Serie A. Non mancano i problemi di gestione per coach Stefano Sacripanti, la scandone già condizionata da oltre un mese per l'assenza di Marco Cusin, ormai lanciato verso il rientro, dovrà tener botta sugli acciacchi e i limiti fisici di Gioragland e Levi Randolph contro un team protagonista nel 2017 tra campionato Champions League e Coppa Italia. Tra Velino e Sassari sarà anche rivincita del confronto dei quarti di finale nell'evento di Rimini Fiera, dove l'appoggio di Ragland trova solo il ferro per la vittoria sarda e l'eliminazione bianco-virde. David Bell e Ghani Laval sono protagonisti nell'asse play pivot della marcia in più innestata dal roster di Pasquini dall'abbio di anno solare. In una Serie A che presenta gli arrivi ufficiali di Clark a Pesaro, di Tazersky a Milano e di Samardo Samuels a Brindisi, fa ancora rumore l'uscita di scena di Edgar Sosa dal roster di Caserta. Il dominicano tramite social network aveva presentato alcune mensilità ancora in attesa di pagamento da parte della società bianconera, che ha replicato con decisione pubblicando su Facebook il contratto firmato da Sosa in cui il giocatore asserisce di non dover ricevere alcun arretrato. Ancora risvolti quindi nella vicenda anche dopo la nota della Federazione Italiana Pallacanestro apparsa nella serata di ieri sul sito ufficiale della FIP.